Ci piace sostenere le nostre scuole ma ci piace anche premiare i nostri ragazzi. Cerchiamo di essere il più accoglienti possibile nei confronti dei nostri giovani e il più riconoscenti possibile. Non solo bei voti in pagella ma anche un assegno da 300 euro per gli alunni dell'ultimo anno della scuola primaria e di 500 per quelli del terzo anno di secondaria di primo grado. Un premio in denaro per chi si è distinto per impegno ricevuto direttamente dalle mani del sindaco Marco Scaramellini e dell'assessore alla cultura, educazione e istruzione Marcella Fratta. La cerimonia quest'oggi nella sala consigliare di Palazzo Pretorio proprio a sottolineare l'ufficialità e l'importanza di questo momento per il presente e soprattutto per il futuro del capoluogo. Ci sembra giusto premiare il merito di chi si impegna, studia, ha dei risultati positivi. Andiamo avanti quindi con questa iniziativa che qualche anno fa abbiamo deciso di creare. L'impegno premia, premia perché arrivano a raggiungere delle competenze veramente forti e sappiamo appunto poi lungo il percorso dei loro studi che in genere riescono a concludere anche gli studi superiori e gli studi universitari con ottimi risultati. Un premio all'impegno e ai risultati ai quali hanno concorso naturalmente anche i genitori, i docenti e le scuole rappresentate in aula dai dirigenti scolastici degli istituti del capoluogo. Ognuno dei quali ha avuto due premiati, uno per la primaria e uno per la secondaria di primo grado. Per l'istituto comprensivo Sondriocentro i migliori alunni sono risultati Lucia Gianatti per la primaria e Chiara Palo per la secondaria. Per l'istituto comprensivo Paesi Retici Anna Pircher e Stella Buzzetti. Per l'istituto comprensivo Paesi Aerobici Alessandro Agnelli e Teresa Giordano. Per l'istituto Pio XII Paolo Pizzicoli e Arianna Vaccarelli. Sono tutti molto consapevoli del loro impegno e anche grati di questo riconoscimento. Spesso noi li interroghiamo per sapere cosa faranno di questo contributo e le risposte sono sempre belle, arricchenti. Ragazzi talentuosi, diligenti e anche se oggi, visto che hanno assicurato che il denaro guadagnato grazie al loro impegno lo metteranno da parte oppure lo utilizzeranno per acquistare libri scolastici. Grazie. 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 Grazie.